Il bello del calcio nel mercato secondo noi di rubrica rossonera è raccontare chi sono gli obiettivi rossoneri ma non solamente dal punto di vista tecnico, tattico, anagrafico riguardante le statistiche ma anche il percorso, il profilo del calciatore, qual è stato il percorso di vita professionale degli obiettivi rossoneri e oggi vogliamo parlare di Yunus Musa, centrorampista 2002 statunitense, nato a New York con un passato anche in Italia su una pista attualmente in forza al Valencia che piace tanto all'area scouting rossonera, all'area tecnica rossonera guidata da Goffri Moncada e per fare questo ci aiuta Matteo Baldini di novantesimominuto.com, sito che ha raccontato bene lo scorso 19 giugno le caratteristiche, il percorso di Yunus Musa leggeremo alcuni strati, capiremo meglio insieme le caratteristiche del calciatore e poi racconteremo verso la fine del video a che punto è la trattativa tra il Milan e il Valencia qual è la richiesta del Valencia, qual è la situazione economico-finanziare del club spagnolo e poi dove e come può interpretare al meglio le caratteristiche Yunus Musa quali sono le sue caratteristiche e dove può tornare utile allo scacchiere di Stefano Pioli Partiamo dall'articolo L'essenza stessa degli Stati Uniti, del melting pot culturale di cui questi sono portatori si può talvolta riflettere in un singolo può trovare espressione lampante anche in un calciatore e il caso di Yunus Musa è del tutto emblematico La strada che da il Ghana porta a New York che poi passa da Castelfranco Veneto e da Londra fino ad arrivare al presente in Spagna appare sulla carta come figlia di traiettorie schizofreniche e prive di un filo conduttore, di un costrutto logico definibile a priori storie che si suonano lontane ed esotiche sulla carta ma che paiono come la radice stessa di qualità e di una ricchezza visibile anche sul campo In un contesto in cui spesso si rivendica la necessità di valorizzare i talenti nostrani ecco che il paradigma si ribalta Musa può essere nostro come no può rappresentare un calcio lontano come quello nato sui campetti sotto casa nostra è una sintesi che curiosamente potrebbe intrecciarsi di nuovo con l'Italia stavolta con la Serie A Quali sono le sue caratteristiche? Quindi abbiamo letto di come il giocatore è nato da genitori ganesi nato a New York per poi fare l'adolescenza in Veneto in Italia a Castelfranco Veneto per poi essere acquistato prima dall'Arsenal e poi ritrovarsi ora a punto fermo di un club spagnolo quindi un giocatore che ha un'esperienza di vita professionale davvero molto molto ampia e continuiamo con quella che è il suo ruolo e quelle che sono le sue caratteristiche tecniche L'evoluzione di Musa come calciatore lo ha visto occupare numerosi ruoli del centrocampo tracciando dunque un profilo più che mai versatile e ricco di qualità nel Valencia in particolare il calciatore ormai diventato certezza per la nazionale ha trovato spazio anche come esterno di centrocampo in un 4-4-2 per sfruttare al meglio rapidità ed esplosività ma di fatto potrebbe imporsi anche nel prossimo futuro come mezzala o come mediano ruolo che ha comunque già occupato nell'ultima esperienza in Liga con l'ultima stagione con la maglia del Valencia Musa ha dalle proprie parti un'esplosività impressionante una potenza muscolare che gli consente di eludere l'intervento del diretto avversario e di saltarlo anche in zone potenzialmente pericolose con sterzate improvvise e cambi di velocità doti queste che potrebbero finire spunti importanti immaginando un futuro anche da mediano a livello giovanile sembrava che potesse incidere di più anche in fase offensiva con i suoi inserimenti e potrà ancora migliorare a livello di visione di gioco e di scelte quando si tratta di servire i compagni appare comunque evidente che assicurandolo assicurandoselo un club si mette in caso un prospetto del sicuro avvenire la cui valutazione ora di 15 milioni è destinata a salire sensibilmente quindi abbiamo capito abbiamo letto abbiamo scoperto chi è Musa qual è stato il suo percorso di vita questo percorso di vita globale quando si parla di globalizzazione Musa calcisticamente è un giocatore possiamo dire globalizzato abbiamo andato prima dall'Inghilterra alla Spagna all'Italia dall'America partendo dal Ghana quindi un percorso davvero multiculturale un giocatore che è duttile, versatile anche in mezzo al campo si sta ritagliando uno spazio importante ora da mediano un giocatore con grande forza che potrebbe andare insieme all'Oftus-Chic a riportare centimetri di forza che si è persa nel Milan con l'addio di Chessy e ovviamente è un giocatore che piace e quindi adesso iniziamo con quella che è la trattativa cosa sta nascendo tra Milano e Valencia facciamo un passo indietro il Valencia ha bisogno di cedere perché per il quarto anno consecutivo non parteciperà alle coppe europee è un club che ha dei debiti un club che non partecipando alle coppe non ha entrate dalla UEFA e quindi è costretta a vendere e proprio Musa e il portiere Giorgi Mamardascivi deve cedere quindi questi due calciatori Valencia dovrà cederli c'è tanta concorrenza sul calciatore si parla di un'offerta di una richiesta di 30 milioni di euro un Milan che vorrebbe chiudere a 20 con bonus facilmente raggiungibili 25 ma lo sappiamo il Valencia è una bottega cara una bottega che cercherà ovviamente di massimizzare dalla cessione di questo calciatore proprio per rientrare proprio per recuperare risorse importanti per il lato finanziario economico del club è un giocatore che piace c'è una trattativa in corso per il momento è top secret Giorgio Furlani e Gofri Moncada stanno lavorando stanno cercando di abbassare la richiesta del Valencia ed è un giocatore che ha passaporto italiano quindi non andrebbe ad occupare nessuno slot da extracomunitario proprio per questo motivo ed è un fattore importante piace tanto alla dirigenza rossonera e mi dicono sto cercando di verificare che entro il 2 luglio i giocatori che vengono acquistati beneficiano ancora di più del decreto crescita sto varificando sto leggendo le noif in termini proprio federali per capire se trova riscontro questa notizia che un procuratore oggi mi ha riportato e quindi sarebbe una strategia vincente per il Milan un giocatore di talento un giocatore dal grande futuro versatile duttile che ci riporta centimetri fisicità e mezza al campo dai costi ancora abbordabili fatemi sapere amici se vi è impressionato se vi è incuriosito la storia di Musa se qualcuno di voi magari amante di calcio internazionale l'aveva già visto e come sempre cliccate like e iscrivetevi al canale youtube di Rubrica Rosso Nera e iscrivetevi al canale